Il mio cuore è per te 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 Quante volte hai sentito il bisogno Di un cucciolo tutto per te Con cui condividere i sogni E tutto l'amore che hai Ora quel desiderio è realtà Perché io sono qui con te Non alimiti la fantasia Con i tuoi cuccioli cerca amici Questa è un'amicizia magica Che riempie il nostro cuore d'amore Il mio cuore è per te 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 Per sempre insieme Seconda parte Siamo pronti Quindi possiamo iniziare quando vuoi Giusto ma che cosa... Sì insomma che dobbiamo fare esattamente Per far tornare la principessa a Pocketville Ecco veramente non ci ho ancora pensato State tranquilli La cucciopedia vi aiuterà Ne sei davvero sicura? Certo chiedeteglielo e vi risponderà vedrete Perfetto allora andiamo immediatamente a Pocketville Ok andiamo Aspettate dimenticavo una cosa Cosa? Che deve essere proclamato un giorno di festa in vostro onore Davvero ma quando? Oggi per tutto quello che avete fatto per me È davvero un grande onore Vi prego di portare il mio ordine a William Lui saprà cosa fare È chiaro Flo? Io e la mia padroncina per sempre insieme È solo questo che voglio Ehi guardate è Flo! Ci stanno acclamando Evviva Flo! Pare proprio di sì E chi se lo immaginava? Tutti i cuccioli Sanno che se la principessa sta per tornare è per merito vostro Grazie amici Ma senza il vostro aiuto Non avremmo mai completato il puzzle nella fontana La mia padroncina ha ragione Voi guardie reali siete state fantastiche E lo stesso vale per voi Le guardie alate sono presenti Beh si può dire che siamo stati un'ottima squadra Già l'unione fa la forza Ecco lo sapevo Ciro cosa ti prende? Niente che tutte queste emozioni mi hanno commosso Che cosa dobbiamo fare adesso? Non lo so neanch'io di preciso Ma dobbiamo consultare la cucciopedia Bene Allora seguitemi nel castello Sei una cosa Flo? Abbiamo una bella sorpresa per te È l'altra metà del cuore Come lo avete rubato a Ima? Non gliel'abbiamo rubato Ce l'ha consegnato lei State scherzando Niente affatto amici È andata proprio così Ima si è resa E abbiamo avuto il piacere Di sbatterla in galera con Zullegort È incredibile Le due metà del diamante La cucciopedia si è mossa Per mille cuccioli cosa sta succedendo? Il cuore dell'amicizia è ancora tutto intero È già pronto per tornare al collo della principessa La cucciopedia non si muove più Ci siamo noi sul trampolino della fontana Beh a quanto pare la cucciopedia ci vuole dire qualcosa Dice che per riportare Ami Io e Magic dobbiamo iniziare insieme la cerimonia della nascita Credo che tu abbia proprio ragione Flo Sì sono d'accordo anch'io Torniamo alla fontana magica Aspettate vi devo dire una cosa Ho un messaggio per William da parte della principessa Davvero? Un messaggio? La principessa ti ordina di proclamare oggi giorno di festa per tutto il regno È stata molto precisa su questo Cosa un giorno di festa? Esatto Il nostro onore Ma è troppo Già forse è un tantino esagerato No Magic Ciro non intendeva riferirsi a te e a Flo Infatti io mi riferivo a Ima E adesso lei che cosa c'entra? Purtroppo c'entra Sei sicura che intendesse indire ufficialmente un giorno di festa? Sì certo Allora vuol dire che dobbiamo liberare Zul, Gort e anche Ima